sono pronto a scioppare l'undicesima stagione del brawl pass io direi di iniziare subito ovviamente 169 gemme confermo l'acquisto boom fantastico iniziamo subito stecca lucciola perché qua andiamo spediti ragazzi eh mi posso già prendere eve e per questo skin direi subito screen boom l'ho fatto ok ok l'ho fatto eh allargato un pochettino e ce la selezioniamo eh quindi stecca gallo aspetta qualche giorno dai ti rimetterò sei tranquillo stecca gallo guarda che bella skin stecca lucciola e adesso ci possiamo prendere eve però prima faccio vabbè l'esperimento ti devi prima prendere eve non l'emote vabbè e allora 3 2 1 boom eve ce la selezioniamo però livello 1 no ce la livelliamo assolutamente subito eh subito 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 e quindi ora livello 7 e quindi ora livello 7 già vabbè la missione è fantastica e ora ci prendiamo le mega casse beh andiamo con la stagione di brawlywood ma qua no 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 spero mi prendo l'ultima cassa va 7 skip no non c'è il luminoso così almeno troviamo subitissimo il gadget raga dato che è livello 7 anche se sto pensando che devo trovare altri gadget altri gadget di brawler no raga no ho trovato i punti di eve però eh attenzione ok no raga ma che schifo le mega casse bruttissime non lo so no no mi sa che qua non ci sono più mega casse e allora prima le mega casse di questa season no raga ma non escono solo equipaggiamenti ci sono boh ah il pacchetto di relazioni epica ok raga mi piacciono quella di stu e byron ma dana mike si pure però 8 skip raga attenzione qui c'è il luminoso vediamo no quello di fang eh lo sapevo lo sapevo lo sapevo però abbiamo altre casse dai ok forza e coraggio qua non c'è nulla ok ventesima no nemmeno qua c'è ok e le probabilità sono un po' buggate raga ne nemmeno qua c'è nulla però non so se abbiamo altre casse qua ah una sola questa mega cassa ne non ci da pure nulla ok va bene va bene gioco vabbè ci prendiamo il pin boom boom e boom ok e adesso ce li selezioniamo un po' si sono selezionati già un po' da soli e vabbè li mettiamo tutti quelli che ho dai ragazzi per boostare il contenuto apro la prima cassa e non solo della stagione 9 vediamo 42 monete non c'è nulla vabbè stavo scherzando vabbè e ci prendiamo tutte le casse qua fino alla soia non lo so dai facciamo 30 non lo so dai io spero almeno in un gadget dai in un gadget peccato che ho finito le mega cassa e sennò sarebbe stato top sto box opening diciamo vabbè ok ok ancora nulla ma ho la soia 22 già no no aspetta 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 ok boom attenzione no c'erano poche monete raga brustasse mi si sta un po' baggando ok i punti per eve dove 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 sono eccoli qua ok ivo ok diciannovesima dai diciannove no no ventiduesima 83 monete ma nei miei sogni vabbè 51 monete no raga no 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 please please non mi fare questo dio di brawl stars ok no 30 skip lo minus oh godo così tanto l'ho trovato ma perfetto ma perfetto però ragazzi già che ci siamo ci vediamo fino alla 30 così almeno non li lasciamo così queste povere casse che poi ragazzi queste casse sono vecchie sono marce sono marce queste casse ce le ho da una vita e niente abbiamo trovato il gadget di eve maxarla a livello 9 almeno non credo sia possibile per colpa di questi dannati equipaggiamenti so che sono passati tanti mesi però dai supercell ma come non puoi fare queste cose perciò ragazzi purtroppo per adesso essere già a livello 7 una cosa veramente assurda grandiosa comunque vabbè niente ragazzi abbiamo sbloccato rive tutto è andato secondo i miei piani dai diciamo vabbè e vabbè noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao ciao